Buongiorno a tutti, tornato intero dalla partita a calcetto, devo dire che le sensazioni cominciano ad essere migliori, le paperette cominciano ad essere sempre di meno, le buone parate cominciano ad essere un attimino di più, sto riprendendo un attimino la forma per giocare amatorialmente si intende, non esageriamo, comunque detto questo non vi ho fatto il video del campo perché ahimè temevo di aver perso la batteria del cellulare nel senso ho inserito lo spinotto per caricarla, non incarica, non incarica, non incarica, non lo faceva a casa, non l'ha fatto con l'adattatore giù della macchina, ho detto madonna adesso devo cambiare il cellulare, non è tanto perché tanto non vado certo a prendere un cellulare da mille euro, anzi se ne spendo duecento è tanti, prendevo un tipo questo che tanto va benissimo, il video vi fa benissimo per quello che tanto mica sono una bella figa, scusate il termine, invece loro devono essere tutte sciccose, comunque ragasoli schedine e bollettine del gigione, le ultime mi sono dilungato troppo ma volevo raguagliarvi un attimo, campionato francese, partiamo subito, sabato, Lens-Clermont 1 alle 17, Nantes-Lille partita da aiuto aiuto, arriva il lupo, 1-2, Monaco-PSG, attenzione a questo Monaco che già se non sbaglio all'andata aveva impattato 1-1 col Paris Saint-Germain, era finita 2-1 col gol all'ultimo nanosecondo per il Paris Saint-Germain, quindi dico IS2, anche perché ormai il PSG c'è solo il campionato, quindi credo che non si distrarrà più e punterà a chiudere, es un es possible, la pratica a campionato per poi allenarsi nelle altre partite o mandare già i giocatori in vacanza. Engers-Brest 1x, Bordeaux-Montpellier 1x, Lorient-Strasburgo x2, Rennes-Metz 1, Reims-Olympic Lione 2, Olympique Marsiglia, Nizza 1x, schedina alternativa, Lens-Clermont over 1,5, Nantes-Lille è la seconda contro la terza, quindi no è la sesta contro la settima, qualcosa di sesta contro settima, comunque sono vicine vicine se non sicuramente, no la seconda contro la terza è l'altra partita, qua sono solo vicine vicine in zona Europa per intenderci, quindi dico gol, Monaco-Paris Saint-Germain che ve lo dico a fa' gol perché ormai il Paris Saint-Germain il suo gol da culo a culo lo prende quasi sempre, Engers-Brest over 1,5, Bordeaux-Montpellier gol, Lorient-Strasburgo over 1,5, Rennes-Metz over 1,5, ero tentato a metterlo over 2,5 poi ha detto stai schiscio che questi sono sempre parchi di gol, nel senso che ne fanno pochi, non che c'è il parco, Reims-Lione over 1,5, Olympique Marsiglia-Nizza gol, andiamo, signori miei, intanto ho recuperato la penna poi la riporterò di là, non la trovavo più, dove è finita, dove è finita, sarà imboscata lì, vabbè, comunque, bollettine del Gigione o bollette del Gigione, ho scelto queste quattro partite anche perché anche in questo caso c'era poco da scegliere, anzi una è anche Tosta che è Marsiglia-Nizza, però è una giornata di campionato che è vero che l'unica partita da aiuto aiuto arriva al lupo è proprio quella lì che vi ho detto prima, Nantes-Lille, perché poi le altre te le puoi giostrare, però sono tutte partite che ci vuole, non ci vuole la doppia, visto quello che è successo ieri col Wolverhampton contro il Leeds di Bielsa, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, io mi aspettavo che il Leeds un gollo facesse, ne ha fatti addirittura tre, finita a due a tre per il Leeds, pensate un po' questa squadra di Bielsa e il Wolverhampton lo vedo in grave Dangerous adesso per la zona Europa. Comunque partiamo con le fisse, bolletta delle fisse del campionato francese, Lens-Clairmont 1, Monaco-Paris-Saint-Germain 2, Rennes-Lione 2, Marsiglia-Nizza 1, con 5 euro salivino con 64,76, scusate il bronco di Riace, poco fastidioso ma pur sempre fastidioso e rompe i testi, giustamente. Bollettina numero 2, Lens-Clairmont multigol casa 1-3, Monaco-Paris-Saint-Germain multigol ospite 2-4, 1-1 a 2 potrebbe uscire come risultato finale, Reims-Lione multigol ospite 1-3, Marsiglia-Nizza multigol casa 1-3, con 5 euro se ne vien con 18,87, chi si accontenta gode. Bollettina numero 3 secca, questa base e basta non ho voluto fare nessuna opzione in più, Lens-Clairmont 1-1 piove, Monaco-Paris-Saint-Germain 2 piove, Reims-Lione 2 piove, Marsiglia-Nizza 1-1 piove, con 5 euro se ne vien con 27,95, siamo a 5 volte e mezza alla posta, direi che può andare bene, gli over sono sempre over 1-1,5 e andiamo alla bollettina che mi fa libidile. Lens-Clairmont, Lens-Clairmont, gol ospite, Monaco-Paris-Saint-Germain, gol casa, Reims-Lione gol casa, Marsiglia-Nizza gol ospite, con 5 euro se ne vien con 18,58, si sono messi d'accordo, il gol multigol e il gol casa, gol ospite, si sono messi d'accordo, più o meno la stessa cifra. Andiamo alla bollettina numero 5, interessante, non è favorita ma è interessante. Lens-Clairmont, gol piove, Monaco-Paris-Saint-Germain, gol piove, Reims-Lione, gol piove, Marsiglia-Nizza gol piove, con 5 euro se ne vien con 108,08, vi informo che Lens-Clairmont e Marsiglia-Nizza il gol piove non è, come si può dire, oh cavolo non mi viene il termine, non è favorito ecco, non mi veniva il termine, scusate ogni tanto, però siamo lì, siamo lì, c'è una differenza di 0,20 per Lens-Clairmont a fumore del no gol più under e di 0,10 barra 15, 0,15 diciamo 0,15 per Marsiglia-Nizza per il no gol più under rispetto al gol piove. Indy per cui due orini se volete proprio investirli per portarvi a casa 42 euro che non fanno schifo, fateci un pensierino, se no come vi dico sempre prendete Monaco-PSG in una bolletta, Reims-Lione in un'altra, insieme ad altre due o tre partitelle e vi fate la bollettina da libidine su misura. Bollettina numero 6, Lens-Clairmont uno più gol, Monaco-PSG due più gol, Reims-Lione due più gol, Marsiglia-Nizza uno più gol, con 2 euro se ne vien con 423,22, con 5 euro 1058,06, però l'unica partita in cui il gol è favorito è Monaco-PSG, quello che vi dicevo prima, il Monaco-PSG, il golletto da Cucurcu lo prende sempre, poi dopo la ribalta, pareggia con i suoi assi e tutto quanto, anche perché il campionato francese non è la Champions, però il suo gollettino magari intorno al cinquantesimo minuto dopo che nel primo tempo è attaccato eccetera eccetera, 0-0, prende il gol, ci girano i ballett, comincia 2-1, 3-1, risultato ribaltato, se non ci riesce perde 1-0 come è già successo se non erro con il Nizza. Indy per cui bolletta alternativa, Lers-Clermont uno più uno gol, Monaco-PSG due più gol perché resta uguale, Reims-Lione due più uno gol, Marsiglia-Nizza uno più uno gol. Con 2 euro se ne vincono 171,66, con 5 euro 429,16. Bene ragazzoli, anche il campionato francese lo abbiamo espletato, se mi passate il termine. Ci vediamo alla prossima, adesso devo preparare i pretini se non mi addormento. E niente, oggi è stata, o meglio, venerdì barra sabato so che è la giornata campale in cui impazzisco. Poi se già l'Inter mi si gioca pure alle 6 del pomeriggio del sabato sono fottuto. E quindi ho video su video da fare. Comunque, così è se vi pare. Ci vediamo alla prossima. Ciao!